Lotta dura, senza paura! Lotta dura, senza paura! Al grido di lotta dura senza paura, in 700 hanno sfilato per le vie della città manifestazione regionale a Padova, partenza dalla stazione e arrivo davanti alla prefettura a Piazza Antenore. Sciopero generale dei Cobasi, sindacati autonomi, per chiedere il rinnovo dei contratti e l'estensione dei diritti. Noi chiediamo che venga fatto un ragionamento diverso per quanto riguarda il lavoro, chiediamo che venga data una maggiore dignità a chi lavora, soprattutto a chi lavora in quelli che sono considerati lavori umili. Molti i lavoratori della logistica in piazza, tra loro molti stranieri, che segnalano come quel comparto sia tra i più penalizzati. Dobbiamo chiedere i nostri diritti come lavoratore. Perché i nostri diritti stanno tornando via, ma non possiamo andare avanti così. Mi fanno fare il ritiro alle sei mesi oggi, dopo 120 consegne, più 40 ritiri. Senza pausa, senza altre cose, pagamento è sempre quella. Una manifestazione per chiedere più diritti, ma anche più sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi riteniamo, così come hanno dimostrato nelle piazze i migliaia di giovani nei mesi scorsi, che sia fondamentale la sicurezza all'interno del posto di lavoro e sia fondamentale anche un ambiente che ci garantisca un futuro decente per noi e per i nostri figli. Grazie. 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 Grazie.